Prosegue il percorso relativo alle immatricolazioni presso il Dipartimento Arettino dell'Università di Siena. La procedura per le iscrizioni aperte fino al 30 ottobre è interamente online, ma agli studenti è offerta la possibilità di parlare con tutor e docenti per qualunque informazione e approfondimento nella sede di Arezzo. Tutti i giorni ci sono degli studenti tutor e anche dei docenti tutor disposti a conversare con gli studenti per far entrare in merito all'offerta formativa di Arezzo. Come sapete abbiamo due corsi di laurea molto importanti, Scienze della Formazione per chi vuole lavorare nella formazione o nel campo educativo e Lingue per le imprese. Noi invitiamo tutti gli studenti, le studentesse e i loro genitori, perché a volte è la famiglia che vuole essere in qualche misura coinvolta senza per questo invadere, ma è una decisione importante, di venire nei nostri locali e quindi avere queste due figure di supporto per prendere una decisione serena e ben fondata. In calendario per il 25 settembre l'Open Day, una giornata organizzata da studenti tutor per aprire le porte dell'Ateneo e far conoscere l'offerta formativa dell'Università Retina a tutti gli interessati. Cambiare scenario dalla scuola media superiore all'Università non è un processo estremamente difficile, ma nemmeno semplice. Noi vogliamo facilitare l'ingresso dei nostri studenti dentro l'Università, perché facciamo un giorno di festa e un giorno dove spieghiamo, aiutiamo i studenti a entrare dentro la vita universitaria, quindi dentro i suoi servizi che vanno dalla biblioteca al tirocinio, a tutti i servizi a disposizione, al nostro caffè ristoro e dentro i corsi di laurea, quindi introduciamo gli studenti dentro il nostro campus.